Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati in un nuovo video Oggi ragazzi c'è sempre grinta nel post partita perché comunque è stata una partita che non è andata malissimo Ma neanche benissimo, quindi avremmo potuto fare un intro un po' meno carica Ma è venuto istantaneo fare questa intro così carica, nonostante la partita non è stata così tanto positiva da essere così carica Però comunque ci siamo portati a casa un punto che è importante perché giocavamo contro una Roma ben organizzata Che veniva da un punto in due partite e quindi sicuramente non poteva ancora permettersi di perdere E quindi era fondamentale riuscire almeno a pareggiare Chiaramente quello che volevamo era altro, era una vittoria che però non è riuscita ad arrivare Ma non doveva neanche essere delusi, per questo ho fatto questa intro, per farvi capire che non è successo niente È un semplice pareggio che ci porta a pari merito con l'intro torino-udinese La sfida con l'intro aperta è sempre più viva, ora ci sarà la sosta, peccato non essere andato a punteggio pieno Però sicuramente abbiamo fatto una partita che adesso andremo ad analizzare nelle statistiche dettagliate Con il solito ospite speciale Alessandro Nazolini Ciao Ed eccolo lui pronto ad analizzare in questa partita con poi le pagelle che saranno molto importanti in questo video Andiamo subito a guardare le statistiche di questa partita Juventus Roma 0-0, quindi poche cose successe, anche tiri pochi 8-7 per la Juve in porta, solo 1 per tutti e due Possesso 49 Juve e 51 Roma, veramente una partita da 0-0, giusto così il risultato Passaggi identici, praticamente una partita identica delle due squadre Fatta proprio alla pari, una guerra alla pari veramente Giusto il pareggio, poco da commentare, partita chiusa, squadre chiuse Una di quelle partite che si decide con i singoli E le Juventus in campo non ce le aveva i singoli, ci poco da dire Perché Vlavic è un giocatore che non si risolve la partita da solo ma ha bisogno delle corralità Non è come Cristiano, come Higuain che prende il pallone e ti risolve la loro partita I giocatori che potevano risolvere la partita erano purtroppo in panchina Che non capisco la scelta di Tiago di metterli in panchina O almeno capisco che voglia preservarli per quando comincerà una prigione in tre giorni dopo la sosta Per oggi, che c'era poi anche la sosta di Messi, io credo che Douglas Lewis poteva giocare titolare È vero che con Meners, con Sessau non avevano quel minuto agio Arrivavano da settimane che non si allenavano, soprattutto con Meners E quindi ci stava a mettere dopo, però Douglas Lewis poteva partire da subito Quindi sicuramente quello è ancora da capire Però Cifri di Antiago ha fatto comunque una partita alla pari della Roma Una partita che ci sta in queste prime tre giornate dove ancora i meccanismi di una squadra che ha cambiato tanto Dovevano ancora girare, si è visto il Milan, soltanto un punto, tre partite Si è visto il Napoli che comunque è subito perso 3-0 Adesso sta piano piano prendendo confidenza L'Ivo ha giocato con un arm big, ha pareggiato Giusto così, rimaniamo al pari dell'Inter, già una squadra solida E va bene così Si, va bene Così, secco, deciso Alessandro Decidi di rispondere così secco Non dice altro, parlerà dopo nelle pagelle E quindi andiamo a guardare le pagelle di questa partita che sono il fulcro di questo video Il solito fulcro Di Gregorio, sei in mezzo perché è arrivato un tiro in porta ed è stato pronto Niente di speciale anche in questa partita Pochi tiri subiti, anche qui solo un tiro in porta L'Ivo in difesa molto compatto, dopo lo vedremo con i voti dei difensori Di Gregorio, sette, fa adesso 280 minuti se si prende il gol Mentre invece adesso andando ad analizzare i difensori Cabal sei in mezzo perché ha fatto comunque una partita regolare Una partita da sufficienza, niente di spettacolare in fase offensiva Ma molto bene in fase offensiva Sì, cabal, sette Savona, sei in mezzo, anche lui stesso discorso di cabal Partita molto buona difensivamente Mentre offensivamente poteva far di più Esatto, io sei in mezzo I difensori, i due colossi, Bremer e Gatti Otto di entrambi perché hanno fatto un'apprezzazione stellare Mostre, veramente, davveri colossi Gatti capitano, capitano Veramente con grande leader, con grande grinta Con i denti sempre scoperti Veramente con gli occhi della tiga Ghiottone E anche Bremer, sempre spingirono in pallone Due difensori veramente trasformati Otto di entrambi Anche io ho pensato perché sono due difensori molto forti Locatelli e Fagioli Entrambi una prestazione non proprio sufficiente Dei 5 e mezzo Perché come io da sostenitore di Fagioli E da non tanto sostenitore di Locatelli Tecnicamente perché Locatelli come persona Come Juventino mi piace molto Però tecnicamente come grande sostenitore di Fagioli E invece un po' meno di Locatelli Tutti e due lo stesso voto Perché anche Fagioli non ha fatto una partita po' perfetta Ho sbagliato alcuni pallone di troppo Ho saputo perso un giallo dopo un minuto e mezzo Non è su massimi livelli Ma si vede che ancora deve un po' ingranare Locatelli va a fare due gran partite Ieri un po' quando ci sono questi partiti chiusi Deve ancora migliorare 5 e mezzo in entrambi Fagioli, Locatelli 5 e tutte e due Poi andando a guardare i tre dietro alla punta di Velaovic Cambiato 5 e mezzo Troppi errori tecnici Di passaggio e di filtrilizzazione Mentre invece bene la corsa Bene il sostenere la squadra Cambiato 5 perché non ha fatto niente E qui come se dovesse continuare Perché non ha fatto niente Poi andando invece a Bangula 5 e mezzo Perché non fa un'apprezzazione Buonissima Però comunque neanche disastrosa Non riesce però a creare quella superiorità in più Sì Bangula 5 Che nell'Indiz è l'unico sufficiente Della fase offensiva 6 perché comunque ha creato varie occasioni Si è fatto vedere Ha comunque creato il pericolo E si è visto che poteva essere sempre pericoloso Non è riuscito a finalizzare Indiz 6 e mezzo Fa sempre una bella partita Solo che ci è mancato un po' il gol Davanti Diusan Vlaovic 5 e mezzo Una partita Non buona di Diusan E anche troppo 5 e mezzo Perché credo sia il peggiore in campo Però comunque al pari degli altri Un 5 e mezzo Un po' più basso Quasi 5 più Perché Vlaovic Ha fatto comunque una partita Cominciata bene Con un gran grinta Un gran voglio Però si è sprecato troppe occasioni Nel davanti Soprattutto di appoggi e passaggi Quindi 5 e mezzo Voto Diusan Per questa partita Speriamo che torni lui dalla quarta Ma ci sarà una partita Una partita così chiusa Però invece 5 e mezzo Perché E' stato un po' strano Diciamo Andando invece A quelli che sono entrati Andiamo Con i primi due Che sono entrati Con Mainers E Insieme a lui Douglas Lewis Ah no Sono entrati con Mainers Con 6 salve Perché è vero Con Mainers con 6 salve Scusate Douglas Lewis è entrato poi Ho detto così anche perché Non mi era spiegato il fatto Che Dago Watt Non avesse messo Douglas Lewis subito Quindi Anche nel mio testo Come si dà Non ci crede Che si è entrato solo il 65esimo Quindi con Mainers 5 e mezzo Purtroppo ancora non è condizioni Lo si vede Ha fatto fatica Ha fatto fatica A fare la differenza Tatticamente Atleticamente 5 e mezzo su voto Ma sicuramente può crescere il copo Può essere fondamentale In questo evento Con 6 salve 7 perché ha fatto una prestazione Mostra Basso Veloce Alla Lionel Messi Azione veramente agile Forte Ha creato vari problemi Le difese Quindi con 6 salve Può essere veramente Una gran sorpresa Con Mainers Io ho 5 mesi Poi lo stesso giocato Che ha detto Ronaldo Invece Con 6 salve Li do Un Qua mi viene da lì Perché Con 6 salve Deve migliorare Io gli do 1-8 Di lettura Però Io gli potevo dare Anche un 9 Perché lui deve Migliorare A stare in piedi Perché è talmente piccolo Che scivone E bagnato Quindi quando piove là Fa così Quindi osservazione Molto interessante Per farvi Alessandro Mentre andando A quelli che sono entrati più tardi Douglas Lewis e McKennie Grande prestazione Di due centrocampisti Che hanno sostituito Lo che fa gioli Con Un McKennie Che si perde 6 mezzo Una bella prestazione Per un giocatore Che doveva essere fuori di squadra Un giocatore Che l'anno scorso Ha fatto molto bene Conferma ancora Di essere in condizione 6 mezzo Douglas Lewis Prestazione mostra Giocate veramente Da fenomeno 7 per lui E speriamo che Dalla prossima Possa essere Titolare McKennie Anch'io Un 6 ball 6 mezzo Non gli do l'insufficienza Perché comunque Era da tanta Non giocava I giocatori che non giocano Da tanto Di solito Fanno una brutta prestazione Quindi 6 mezzo Douglas Lewis Anch'io 7 E Nico Gonzales Solo è entrato Per 10 minuti 6 perché Non è riuscito Neanche a far tanta differenza 5 minuti Giusto a giocatore 6 Lo vedremo meglio Nei prossime partite Parlando del mister Invece Tiago Motta Anche lui Bisogna analizzare un po' La partita Che ci si è stata fatta Quindi il voto allenatore Sempre un po' Come partita in generale Direi che per questa partita Il voto di Tiago Motta È 5 e mezzo Perché comunque Non è un disastro Come ho detto Bisogna farlo lavorare Però se devo dare il voto Per questa prima partita Per questa prima partita È 5 e mezzo Per se devo dare il voto Per queste prime 3 È 7 Però per questa Prima partita È 5 e mezzo Perché Comunque È stata una partita Dove Potevano fare di più Sicuramente Io Tiago Motta Invece 6 e mezzo Perché Lui ha sofferto Anche Il caldo Soprattutto D'Angola Struis Anche Calulu Secondo me La poteva mettere Comunque Vedremo poi Nelle prossime partite Però comunque Doviamo rimanere tranquilli Perché ripeto Tiago farà il suo lavoro Nel prossimo Quindi ragazzi Questa era Il post partita Di Juventus Una partita Bloccata Che ci ha visto Pariggiare Con un po' Di rammarico Ma ci siamo Siamo lì Dobbiamo essere tranquilli Dobbiamo far lavorare Tiago i giocatori E siamo pronti In vista Della prossima partita Dopo la sosta Che ci vedrà In casa dell'Empoli Poi invece Saremo pronti Per la Champions Contro il PSV E da lì Cambierò la storia Signori Ciao a tutti ragazzi Sempre Forse di Juventus Ciao a tutti C'è per l'Empoli Al PSV Ciao a tutti ragazzi Sempre Forse di Juventus Ciao a tutti ragazzi